buongiorno ragazzi benvenuti in questo video benvenuti in questo nuovo blog oggi è lunedì abbiamo un po di tempo andremo a farci la nostra corsetta un bel fondo lento per buttare su un po di chilometri in questa settimana che sarà corta a causa corso di aggiornamento venerdì sabato e domenica vedo se posso poi spoilerarvi qualcosina di quello che andremo a fare io con il mio collega andremo a fare un corso su questo nuovo macchinario che abbiamo preso a lavoro si tratta di un macchinario che lavora su una tavoletta proprio eccettiva magari qualcosina riesco a spoilerarvi se no vi racconterò un pochino perciò detto questo noi abbiamo tempo fino a giovedì per allenarci di conseguenza dobbiamo buttare su un po di chilometri bando alle ciance andiamo a correre let's go ed eccoci tornati ragazzi corsetta fatta abbiamo fatto i nostri 13 con un passo di 450 perciò abbastanza tranquillo e niente detto questo per oggi direi che è tutto noi ci aggiorniamo col prossimo allenamento ciao buongiorno ragazzi benvenuti in questo giovedì e benvenuti in questa settimana disastrosa oggi riusciamo per cara grazia ad avere un orettina di tempo velocissima ci faremo un 10 velocissimo così almeno riusciamo a stare dentro nei tempi dato questo noi andiamo a correre let's go ed eccoci tornati ragazzi abbiamo fatto i nostri 10 ne è uscito un discreto 4 40 detto questo noi doccia al volo pranzo velocissimo e torniamo al lavoro detto questo noi ci aggiorniamo magari per il corso se riesco a spoilerarvi qualcosa se no ci vediamo prossimamente per gli aggiornamenti ciao buongiorno ragazzi benvenuti a domenica siamo quasi sera siamo tornati dal corso però non mi ho potuto far vedere nulla perché la parte tutta la software del delos nuovo o altro ancora in stato di avanzamento lavori aggiornamento perciò era proprio una preview anche per noi operatori diciamo per dare magari alcune indicazioni su cosa avere come avere le cose nel nuovo software e perciò era un po diciamo sotto imbargo tra virgolette detto questo essendo stato due giorni e mezzo seduto al corso non essendo riuscito a correre adesso anche se pioviggino un po perciò tempo non bello però voglio di farmi un 10 perché veramente questa settimana solo due uscite adesso almeno facciamo una terza e almeno mi scarico un po detto questo non andiamo a correre let's go a dopo ed eccoci tornati ragazzi abbiamo fatto i nostri 10 abbiamo fatto un 440 finale perciò non male alla fine ho smesso anche di piovigginare perciò molto bene spero che anche questo video vi sia piaciuto anche se non c'è stato tanto di interessante speriamo settimana prossima di fare almeno una bella uscita in bici così da farvi vedere qualcosa di nuovo detto questo se vi è piaciuto lo stesso mettete like iscrivetevi al canale è gratis e a me farebbe tantissimo piacere e mi farebbe crescere per gli spoiler instagram detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao